Girandole una domanda che viene dai suoi concittadini di Servola, lei sindaco oggi andrebbe ad abitare a Servola vista e feriera con tutta la sua famiglia? Guardi, onestamente questa è una domanda francamente malposta, mi scusi, ecco, cioè una domanda malposta, io abito in un'altra zona della città, no? No, ecco, che ha i suoi problemi diversi da quelli di Servola, sicuramente non ha i problemi oggi come oggi di inquinamento ambientale di Servola, ma francamente non è che questa sia, lei andrebbe ad abitare a Servola? Io no, nemmeno morto, ho visto i dati. Ecco, diciamo che oggi come oggi Servola ha un problema, la ferriera esiste da sempre però, non è che la ferriera esiste da 5 anni, 10 anni, 15 anni, la ferriera esiste da sempre e per molto tempo la convivenza tra Rione di Servola e la ferriera è stata una convivenza che possiamo definire più che accettabile. Quando ha smesso di essere accettabile? Quando si è smesso di investire sul miglioramento e sulla manutenzione degli impianti. Quindi che la situazione oggi sia una situazione molto critica è assolutamente vero e infatti non si può continuare in questo modo. L'unica ragione per cui parliamo ancora di continuità di quel impianto è perché qualcuno ha detto che viene a mettere svariati milioni di euro per intervenire e affrontare il problema ambientale. Quindi la sfida è un sito dove anche il sindaco Cosolini se volesse potrebbe andare a vivere a Servola. Guardi, ma il problema non è il sindaco Cosolini, è un sito dove le persone possano vivere e possono respirare molto meglio di come hanno respirato in questi ultimi anni. Poi che sia il sindaco Cosolini o sia un altro, guardi, è molto relativo. Guardi, mio figlio e mio nipote, per essere molto chiari, mio figlio e mio nipote che a due anni e mezzo stanno a 500 metri in linea d'aria dello stabilimento. Quindi il problema, come vede, è molto più vicino di quello che sembra. Io sono molto meno distante, anche se invece sto a 5 km, sono molto meno distante da questo punto di vista alla problematica di come si respira in quella zona di quanto qualcuno potrebbe pensare.